Accetto con entusiasmo, la risposta non arrivava, ho fatto il provino, la risposta non arrivava, quando mi ero messo ormai l'anima in pace, il maestro Brandi, Alberto Brandi, mi dice hanno scelto te, il provino, dico ma maestro ma perché non mi faceva, perché il provino è andato negli Stati Uniti, l'ho ascoltato lo staff della Walt Disney, perché gli americani sono dei pignoli esasperanti, quindi se hanno scelto te vuol dire che tu andavi bene per quella parte, per quel personaggio, per quel film, il personaggio era Rudy Radcliffe e il film, i cartoni animati, era La Carica dei Ferito Uno. Tutti i scontri cantano, la canzone del teatro e il film, Crudelia Trimato. Crudelia, Crudelia Trimato. Crudelia Trimato. demoni, cruderia fa l'effetto di un demonio, e dopo il primo start è il vero, ti senti in suo potere, e frega il sorpedere, gli occhi di felino predatore, e un mostro umano, cruderia e lantina, dovrebbe per sempre dal mondo sparir, che gioia allora, che soddisfazione, cruderia, cruderia del mondo. Cruderia fa l'effetto di un demonio, e dopo il primo istante di terrore, ti senti in suo potere, e frega il sorpedere, gli occhi di felino predatore, e un mostro umano, cruderia e lantina, dovrebbe per sempre dal mondo sparir, che gioia allora, che soddisfazione, cruderia, cruderia del mondo. Cruderia, cruderia, cruderia del mondo. bravo